Musica Bentornato Kudrier, bentornata Una nuova sezione del pannello di controllo Parlerò del centro operativo Cos'è il centro operativo? In alcune versioni di Windows è chiamato centro sicurezza PC In questo screenshot vedrai dove poterlo avviare È una sezione del sistema operativo in cui vengono evidenziati degli avvisi, delle notifiche E le operazioni da eseguire, quelle suggerite, necessarie per mantenere il sistema operativo efficiente, sicuro e funzionante In pratica immaginano come un cane da guardia che ti segnala quello che non rientra nella normalità E quindi richiede una tua attenzione, un tuo intervento Non devi necessariamente eseguire alla lettera i suggerimenti Ma il compito importante è l'esistenza di questo strumento Il quale segnala una differenza rispetto alle linee guida di gestione del sistema operativo Che sono dettate ovviamente dalla Microsoft Le segnalazioni nel dettaglio riguardano manutenzione e sicurezza Questi due settori I livelli di segnalazione, però quando sono attivati Varieranno in base al tipo di allerta E vengono evidenziati con due colori diversi Il colore rosso indica un livello di attenzione per così dire massimo E ti indica di provvedere quanto prima Per non minare la stabilità del sistema operativo in termini di sicurezza Invece il colore giallo indica un'attività che non devi eseguire immediatamente Ma è fortemente consigliata e rientra nelle azioni di manutenzione Che serviranno per mantenere lo status ottimizzato del sistema operativo Nel senso è, prima ti muovi, meglio è Come si avvia, lo abbiamo visto in maniera molto rapida nei primi screenshot Vai nel pannello di controllo e clicca sul pulsante omonimo Centro operativo Nella finestra che si presenta te noterai, come detto, due sezioni di sicurezza e manutenzione Con diverso colore Sottolineo ancora se sono attivati questi avvisi Altrimenti non noterai alcun colore Se qualche problema è stato rilevato durante il normale utilizzo del sistema operativo In maniera automatica noterai nella Sistray la presenza di una bandierina Questa è la notifica del centro operativo Cliccando sopra la bandierina potrai visionare la natura della segnalazione E nel caso accedere direttamente tramite la stessa al centro operativo Puoi espandere o comprimere ogni settore di manutenzione e sicurezza Per poter visionare oppure nascondere i dettagli Potrai cliccare sul nome del settore Oppure sulla freccetta rivolta verso il basso accanto al nome Così facendo, come ho detto, espanderai le due sezioni Il centro operativo tiene sotto controllo lo status del sistema operativo Quando varia in relazione o alla sicurezza o alla manutenzione e reagisce Ti allerterà con un'icona abbiamo visto nella Sistray In modo tale che tu potrai essere allertato o allertata e agire di conseguenza Gli elementi che il centro operativo tiene sotto controllo sono Windows Update, gli accionamenti del sistema operativo Le impostazioni di sicurezza della navigazione internet Il firewall che evita accessi indesiderati Protezione da spyware e programmi correlati a malware Il controllo dell'account utente per poter evidenziare le notifiche Che possono essere volute o non volute Account utente che ti ho proprio mostrato nella sezione relativa del pannello di controllo Protezione da virus Windows backup, quindi ti allerterà che non sono stati pianificati o realizzati dei backup Risoluzione dei problemi del sistema operativo Oppure aggiornamenti generici Puoi scegliere quali e quanti elementi monitorare Abilitandoli o meno singolarmente E così potrai selezionare la tipologia dei messaggi che vorrai ricevere I messaggi di segnalazione vengono archiviati ogni volta che vengono generati E sarà possibile anche consultarli in maniera postuma Tramite un pulsante dedicato Visualizza messaggi archiviati Che è posto in alto a sinistra nella sezione del centro operativo Al suo interno potrai avere quindi maggiori dettagli Sugli eventi che si sono verificati nel corso dell'utilizzo del sistema operativo Come si attivano o disattivano gli avvisi L'attivazione può avvenire dalla schermata principale Cliccando nella lista sul pulsante attiva In relazione al segnale che vuoi attivare In relazione all'avviso che vuoi attivare Quindi ci saranno tanti pulsanti con nome attiva Con suffisso relativo al tipo di messaggio Oppure per disattivarli Accedi alla sezione interna del centro operativo Modifica impostazioni centro operativo E da questa sezione potrai Deselezionare i segni di spunta relativi a ogni avviso E ovviamente selezionarli per attivare gli avvisi Dopodiché clicca su ok per far acquisire queste impostazioni Ma è necessario il centro operativo? Ma dipende Se non sei un conoscitore o una conoscitrice del mondo informatico Direi proprio che è meglio attivarlo Spesso l'utente di un computer è talmente distaccato dalla macchina Fino al punto di aver paura di interagire per terrore di far danni E quindi non saper magari come ripristinare eventuali impostazioni cambiate In questo esempio specifico Naturalmente paura per paura Se un avviso ti può salvaguardare la salute del sistema operativo E dei tuoi dati sensibili Naturalmente è meglio attivare il centro operativo Nel caso invece ti senti un dominatore del computer Una dominatrice del computer Quindi significa che possiedi le conoscenze sufficienti A districarti nell'uso della macchina In termini di sicurezza e manutenzione Ed eventualmente risolvere i problemi che si creano A mio giudizio potresti farne a meno Questo perché se sei una persona cosciente Di come funziona il computer Il sistema operativo E il mondo collaterale Naturalmente impiegherai una metodologia d'uso della macchina Molto accurata E in alcuni casi potresti essere talmente maniacale Che conosci il sistema operativo a livello DNA E quindi non è necessario attivare il centro operativo Queste persone naturalmente non hanno bisogno Che qualche avviso le allerti Per qualcosa di strano che sta accadendo O di inusale che sta accadendo E quindi non è necessario che vengano allertati Quando si verifica un determinato evento E naturalmente disattivano tutti gli avvisi Del centro operativo E le altre notifiche del caso Tra l'altro così non vanno a privare Alcune risorse del processore Il quale dovrà monitorare naturalmente Determinate azioni e funzionalità Bene, questo compito non lo deve eseguire E quindi meno lavoro per lui E potrà dedicarsi ad altre funzioni Ben più importanti Quindi in definitiva sarà un servizio attivo in meno E in pratica se vuoi Anche perché no Un atto di presunzione Però dovuto alla conoscenza Sintetizzando tutto quindi Il valore del centro operativo È quello di avvisarti Per un qualcosa che sta accadendo Al sistema operativo E di cui tu magari Puoi non esserne a conoscenza O per ricordarti Alcune azioni che devi eseguire Proprio per non pregiudicare La sicurezza e la funzionalità Del sistema operativo Facciamo degli esempi Per capire L'utilità del centro operativo Immagina di essere il centro operativo Lui agisce così Guarda Ho controllato dal sito della Microsoft E ho rilevato Che sono disponibili Alcuni aggiornamenti Per migliorie e sicurezza È il caso che li esegui Oppure Un programma Guarda Sta tentando di accedere All'internet È strettamente correlato A un tuo intervento Sei stato tu Dipende da te Ancora Attenzione Ho notato Che l'archivio Dei virus e dell'antivirus È un pub Benchiotto Perché non lo aggiorni? Ho rilevato Che non hai eseguito Un backup Non hai configurato Un backup Dei tuoi dati O del sistema operativo Credo sia bene Che tu provveda Possiamo fare altri esempi Ho rilevato Un problema di funzionalità Del determinato programma X Oppure Ho notato Che non hai più La connessione ad internet Se vuoi Posso controllare E vedere Se ci sono soluzioni Per un dato problema Al posto tuo Ancora Un programma Vuole installarsi Nel sistema operativo Hai avviato tu L'installazione? Infine Un programma Vuole cambiare Le impostazioni Del sistema operativo O del registro di Windows Glielo consenti? Se è stato tu E allora Lasciamolo lavorare Ecco Piccoli esempi Se vuoi anche banali Per farti però Comprendere Appieno Il motivo Per cui è presente Il centro operativo Nel sistema operativo E quindi Poterne sfruttare Le sue potenzialità Un criterio Che però Voglio sottolineare Infine È che Disattivando gli avvisi Non si disattivano I programmi O le funzionalità Del sistema operativo Ma solo Le notifiche Relative All'utilizzo Dei programmi stessi Cioè dell'altro Ma Se vuoi agire Altruisticamente Direi di sì Senti questo Il sistema operativo Rileva sì Dei problemi Hardware E software E oltre a cercare Soluzioni Ti permette Di inviare Dei dati Del problema Alla casa mate Alla Microsoft Questo per creare Un archivio Di problematiche E di conseguenza Realizzare Un database Per le soluzioni A determinati problemi Che potranno essere Fruibili Da ogni utente A Windows Quindi è importante La stessa azienda Però Per risolvere Il tuo problema Potrebbe richiederti Ulteriori informazioni Per aiutarla A ricercare Soluzioni Che al momento Possono non essere Disponibili In questo modo Vorrai partecipare In maniera indiretta Alla creazione Di nuove soluzioni Per tutta La comunità Windows In pratica Grazie Alla nascita Di problemi Le soluzioni Trovate Vengono messe A disposizione Della collettività E scusa Se è poco Se vuoi sapere Come la Microsoft Tratta le informazioni Fornite Dal sistema operativo Che ti richiede Puoi anche Visionare La pagina Dedicata Al seguente Indirizzo Questo link Lo metterò Nelle risorse Disponibili Nella descrizione Del video Andiamo a vedere Qualcosa di pratico Del centro operativo Come sempre Per accedere A la sezione Clicchiamo su Start Poi su Pannello di controllo Ed infine Andiamo ad individuare L'opzione Centro operativo Cliccaci sopra In questa sezione Ho Nel mio caso Delle notifiche Relative Ai programmi D'uso Come puoi vedere Il colore È giallo Quindi Tutto sommato Non sono Granché Importantissimi Però È meglio Darci una Quadata Naturalmente Se gli avvisi Sono attivati Puoi ampliare Le varie opzioni Che si possono Monitorare In questa sezione Già Puoi vedere Come attivare O meno I vari messaggi Sarà sufficiente Cliccare Sul relativo Messaggio E attivarlo Immediatamente Anche nella sezione Manutenzione Accade lo stesso Da questa sezione Puoi decidere Se Assecundare Le richieste Fornite Dal sistema operativo Oppure Ignorarli Ad esempio Possiamo Archivare Alcuni Messaggi Ed ignorarli Attiviamo Qualche opzione Come il firewall Windows Update E naturalmente In maniera immediata Il sistema operativo Già reagisce Se Rileva Qualche cosa Di grave Come in questo caso Risulta che Il sistema Antivirus È disattivato Puoi cliccare Su Attiva ora Oppure Andare Come nel mio caso Nella Sistrei E controllare Che l'antivirus È appunto Disabilitato Per cui Selezioniamolo Sul completo E vedi come reagisce Immediatamente Il centro operativo Una volta che Hai l'opportunità Di visionare Tutti gli avvisi E quindi Scegliere quello Che credi Meglio Per il tuo Utilizzo Potrai Modificare Le impostazioni E Deselezionarne Da questa Sezione Alcune Oppure Impostarle Semplicemente Aggiungendo Dei segni Di spunta Dopodiché Quando hai Terminato Le impostazioni Clicca su Ok Per rendere Attive Controlliamo Di nuovo Le impostazioni Che sono state Già Attivate L'opzione Modifica impostazioni Di controllo Dell'account Utente Già Te ne ho Parlato Quando ho Descritto La sezione Account Utente Del pannello Di controllo Andiamo a Vedere Il pulsante Visualizza Messaggi Archiviati In questa Sezione Se sono stati Archiviati Dei messaggi Cosa che Ho fatto Proprio In tempo Reale Qualche minuto Fa Potranno Essere Visionati Eventuali Messaggi Da te Archiviati O dal sistema Operativo Archiviati E quindi Visionare Nei dettagli Cosa fare Per risolvere Il problema Quindi si avvierà Una procedura Di soluzione Del problema In questo caso Specifico È stato rilevato Un malfunzionamento Durante L'utilizzo Del browser Opera Che si è chiuso In maniera Impropria E ti notifica Che è anche presente Una nuova Versione Del browser Per cui Come puoi vedere Ad ogni Messaggio Archiviato Puoi avere Informazioni Che possono Essere Utili Se ti interessano Naturalmente Per risolvere Il problema Vediamo Questo problema Relativo A Firefox Una diagnosi Viene eseguita E vediamo Cosa ci Allerta Chiudiamo Il centro Operativo Solo Per farti Vedere La notifica Che ho ricevuto Nella Sistray Il centro Operativo Qui in basso A destra Notificherà Tramite Una bandierina Che ci sono Dei problemi Nella fattispecie Ti indica Un messaggio Cliccandoci sopra Ti allerterà Del tipo Di messaggio Che in pratica È l'analisi Del computer Necessaria Ossia Una scansione Tramite Antivirus Andiamo Ad aprire Di nuovo Il centro Operativo Per visionare Eventuali Altre Opzioni Da descrivere Come ti dicevo Durante la spiegazione Delle slide La Microsoft Può ricevere Informazioni Relative Ai problemi Può inviare Informazioni Sul problema In questo caso Come puoi vedere È attivato Può inviare Informazioni Sul problema Alla Microsoft Cliccando sul pulsante Informativa Sulla privacy Potrai andare A leggere Le informazioni Relative Della Microsoft Proprio In relazione Alla privacy Chiudiamo Il browser Andiamo A vedere Le impostazioni Relative Alla ricerca Delle soluzioni Qui hai 4 Possibili opzioni Cercare soluzioni Automaticamente Che è la scelta Consigliata Oppure Cercare le soluzioni Automaticamente Ed inviare Eventuali dati aggiuntivi Appunto Della segnalazione Alla Microsoft Se li richiede Puoi anche Chiedere conferma Prima di cercare Eventuali soluzioni Oppure Non cercare Mai soluzioni Che ti notifica Naturalmente Il sistema operativo È una scelta Non consigliata Sta a te Decidere In base alle tue Conoscenze E capacità Di diagnostica Selezionare L'una o l'altra Opzione Puoi anche Impostare Le segnalazioni Le segnalazioni Da inviare Da parte Di ogni Utente Al computer Puoi cercare Soluzioni Automaticamente Come hai visto Nel tuo caso Ma qui In relazione A tutti gli utenti Di Windows Cercare soluzioni Automaticamente Inviare Inviare Dati aggiuntivi Chiedere conferma Prima di cercare Le soluzioni O non cercare Mai le soluzioni Potrai anche Consentire ad ogni utente Di scegliere Le impostazioni Deserate Anche in questo caso Deciderai tu Cosa fare In base alle necessità E all'uso Del computer Puoi anche Selezionare I programmi Aggiungendolo Tramite Questo pulsante Quindi selezionare I programmi Che non devono Mai informare La Microsoft Oppure Non devono essere Ricercati Eventuali problemi Qualora Se ne verifichi Torniamo indietro E l'ultimo pulsante Ti notifica Le informazioni Relative al Prelevamento Delle informazioni Sulla privacy Da parte Della Microsoft Ricordati Comunque Qualsiasi impostazione Vai a eseguire In ogni sezione Se è presente Il tasto Ok Andrai a Far acquisire Tale impostazione Invece Cliccando sul pulsante Annulla Annullerai Tutte le impostazioni Eseguite Bene Nella prossima lezione Saremo sempre più addentrati Nel pannello di controllo Ora un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E dalla prossima Un forte Sao ti No Ti 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 Grazie a tutti.